Un buongiorno a tutti da Antonio Sanò e Andrea Falcinelli. Per mercoledì 27 luglio il tempo sull'Italia sarà in parte influenzato dalla depressione attiva sull'Europa centro-settentrionale. Ancora il nord e le regioni centrali adriatiche i settori più interessati dai fenomeni e dal clima più fresco. Meglio altrove. Al nord c'è l'imprevalenza coperti già in mattinata con rovesci diffusi, specie vicino ai rilievi. Fenomeni anche in pianura tra Lombardia, Piemonte ed Ovest Emilia, poi anche su Venezia e Romagna nel pomeriggio. Clima ancora fresco ove instabile. Al centro variabilità dei cieli su tutte le regioni con possibili piovaschi o brevi rovesci in intensificazione nelle ore pomeridiane. Fenomeni più probabili tra Marche, Toscana Interna, Umbria ed Abruzzo. Più sole lungo il versante tirrenico. Al sud torna il bel tempo su tutte le regioni, ad eccezione di velature in transito tra Campania, Puglia e Lucania. Eventuali piovaschi potrebbero innescarsi sul nord della Campania e nella notte sulla Sicilia occidentale. Temperature in aumento ma leggermente sotto media. Sulla Sardegna un po' di nubi sparse al mattino ma in graduale dissolvimento nel corso del pomeriggio. Venti deboli variabili e temperature in aumento, più vicine alla media. Un saluto da Andrea Falcinelli, ilmeteo.it